La caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento ha aperto le porte agli studenti dell'Istituto Comprensivo Garibaldi di Real Monte nell'ambito delle iniziative finalizzate a promuovere la cultura della legalità. Una giornata intensa organizzata al termine di un ciclo di incontri in cui sono stati affrontati importanti temi tra i quali il bullismo e l'uso consapevole dei social network che ha dato la possibilità ai giovani studenti di poter conoscere più da vicino i diversi reparti dell'arma dei carabinieri, in particolare il nucleo operativo radiomobile, il reparto biodiversità dei carabinieri forestali di Reggio Calabria e del nucleo cinofili di Palermo. I piccoli visitatori accompagnati dai loro insegnanti hanno seguito le spiegazioni ponendo molte domande e hanno avuto la possibilità di vedere e toccare con mano l'equipaggiamento della sezione operativa della sezione radiomobile, di salire sulle autoradio e sulle moto in dotazione, di ascoltare in diretta le comunicazioni con la centrale operativa, nonché di scoprire le apparecchiature radio utilizzate per svolgere il delicato lavoro di coordinamento e supporto alle pattuglie esterne e di risposta al cittadino attraverso il numero unico di emergenza 112. Tra un'attività e l'altra hanno anche conosciuto Blade, il cane del nucleo cinofili di Palermo, ed esplorato le attività svolte dai carabinieri della biodiversità che si occupa di tutelare la natura. La visita presso il comando provinciale è stata un'occasione anche per poter visitare la mostra denominata Valorizzare il sommerso, dove sono esposti reperti archeologici recuperati, quali manufatti in terracotta di varie tipologie, frammenti di un sarcofago recentemente consegnato al Museo Griffo di Agrigento dal comando provinciale tutela patrimonio culturale e numerose anfore ritrovate nel mare di fronte alla costa siciliana. L'arma dei carabinieri considera queste occasioni di incontro e conoscenza reciproca come un'opportunità per rafforzare il messaggio di legalità e di sicurezza con la società.